Stavo con un libanese, giro per Roma per fattentato, quando sul raccordo è rimasto bloccato, c'è stata la fila a Borco del Judo, allora prova uscì a Brenestina, ma pure lì non si cammina, io ce la tenta con no Mantana, c'è sta incidente e borca buttana, ormai me la sento senza sbaranza, e mi accosta su corsia d'emergenza, me la sale attacco dei grises, perché saranno cazze al capo dell'esis, mentre penso a giusto remedio, uno con scooter mi fa il dito medio, ecco che arriva l'ibab che squilla, questo è Khaled che dà dei scintilla, sempre fermo sul raccordo, ma come la cassa faccio, a trovare un lampione di qua, dobbiamoci su, non c'è un caso che qui funziona, niente è attentato a Roma, non c'è se la riesci a Roma, niente è attentato a Roma, non c'è se la riesci a Roma, niente è attentato a Roma, ormai se sono fatte le nove di sera, vedo scritta Bonte Galeria, sento buzza borca miseria, l'esplosivo gira per l'aria, sai che faccio il ritorno a casa, ma la strada di nuovo sentasa, manca dirlo un altro incidente, tutta ferma che guarda la gente, io dall'ansia vengo assalito, esce pure il giubbotto imbottito, quasi solo muove il dito, faccio il botto con tutto impradito, voglio solo tentare la fuga, ma barabara prendo la buca, Borca Troia mi devo fermare, e la ruota mi tocca cambiare, sempre fermo sul raccordo, ma come la cassa faccio, a trovare un lampione di qua, beviamoci su, non c'è un caso che qui funziona, Niente è attentato a Roma Non c'è se la riesce a Roma Niente è attentato a Roma Non c'è se la riesce a Roma Niente è attentato a Roma Puoi ritornare C'è il raccordo da sorbolari Da una vita io puoi ritornare In Egitto da me In Egitto da me In Egitto Stavo con libanesi Quanto traffico in questo paese Sono io a bagarne le spese Che il giubbotto si ascenda Sempre fermo sul raccordo Ma come la cassa faccio A trovare un lampione di qua Beviamoci su, non c'è un caso che qui funziona, Niente è attentato a Roma Non c'è se la riesce a Roma Niente è attentato a Roma Non c'è se la riesce a Roma Niente è attentato a Roma